Treviso è la città più a misura di famiglia del Veneto. A stabilirlo uno dei portali nazionali per intermediazioni immobiliari. Secondo una ricerca di immobiliare.it, circa il 70% dei genitori veneti è soddisfatto della città in cui cresce i propri figli e, su circa 6.000 utenti del sito, Treviso è la città più apprezzata. Con il 29,6% di genitori che si definiscono addirittura molto soddisfatti, con il 29,6% di genitori che si definiscono addirittura molto soddisfatti, guadagna un posto nella classifica delle 10 migliori città italiane per famiglie. A seguire, scendendo nella classifica generale rispettivamente alla posizione 11 e alla posizione 14, si trovano Verona con il 24,6% di soddisfazione e Vicenza con il 23,7%. Questi sono i risultati che ci attendavamo. Del resto abbiamo anche ulteriori progetti, ad esempio il trasferimento della Brat in Piazza Rinaldi, la rinnovata Piazza Rinaldi. Biblioteca dei ragazzi che soddisferà una delle richieste emerse dal sondaggio. Più servizi alle famiglie, soprattutto per chi ha meno possibilità. Sul fronte sociale ci stiamo impegnando e a settembre partiremo con dei progetti specifici per fare in modo anche che i bambini, i ragazzi e i giovani meno fortunati, con meno possibilità dal punto di vista economico, non rimangano indietro. E' sempre nel sondaggio emersa l'esigenza di una migliore gestione del traffico. La decisione dell'amministrazione di realizzare delle piste ciclabili e quindi l'attenzione proprio ai pedoni e ai ciclisti e alla mobilità caratteristica proprio dei più giovani va in questa direzione. Quindi una città smart, una città più verde, rispettosa dell'ambiente e a misura appunto di pedone, di ciclista, quindi di ragazzo e di bambino. Grazie. 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 Grazie.